Ad entrare in azione sarebbe stata una sola persona, incappucciata. Ha piazzato la bomba davanti alla saracinesca e poi è fuggita, senza lasciare traccia. E' quanto emerge dall'analisi dei filmati di una telecamera di sorveglianza acquisiti dalle forze dell'ordine nell'ambito delle indagini sull'attentato di Namitardo, avvenuto ieri pomeriggio ai danni del centro per anziani il sorriso di Stefano a Foggia. L'ordigno è stato fatto esplodere intorno alle 15 a due passi dall'ingresso della struttura, che si trova in via Vincenzo Acquaviva, ed è gestita dai fratelli Luca e Cristian Vigilante, testimoni dell'accusa in un processo antimafia contro un clan foggiano, dedito alle estorsioni. La residenza finì già nel mirino della criminalità il 16 gennaio scorso, quando un'altra bomba danneggiò l'esterno dell'edificio, l'insegna e alcune vetture parcheggiate. Mentre il 3 gennaio era stato uno dei due gestori del centro, Cristian Vigilante, a rimanere vittima di un attentato con il quale venne fatta saltare in aria la sua auto. Il filmato ha immortalato il presunto autore dell'attentato di ieri, si tratta di un uomo solo arrivato in sella ad una bicicletta e con il volto nascosto dal cappuccio di una felpa. Gli inquirenti non escludano che possa trattarsi dello stesso attentatore di gennaio, già ripreso dalle telecamere di sicurezza. L'esplosione fortunatamente non ha provocato feriti ma ha fatto diversi danni. Distrutta la saracinesca del centro mentre sono andati in frantumi i vetri di alcune auto parcheggiate in strada. Intanto proseguono serrate le indagini della squadra mobile che tra ieri e oggi ha effettuato decine di perquisizioni a carico di diversi pregiudicati della città. La pista investigativa più concreta è certamente quella dell'attentato di stampo mafioso ma gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Impauriti e rassegnati al peggio molti residenti della zona che ieri pomeriggio dopo l'esplosione si sono riversati sui balconi delle loro abitazioni gridando a gran voce di chiudere la struttura.